...o seminario online dedicato al tema dei dati aperti nei comuni, in particolare ai comuni piccoli, l'idea di capire come la federazione di comuni possa generare un patrimonio di dati più consistente. Io vedo che scrivete buongiorno, quindi ricambio il mio buongiorno, mi pare di capire che non ci siano problemi di audio e di video, ci vedete, ci sentite bene. Bene, io vi tengo compagnia giusto per i primi minuti, siete già 37 e vi ringrazio, ringrazio voi primi della puntualità con cui avete fatto accesso a questo webinar. L'idea è di raccontare, oggi sono in buona compagnia, vedete qui accanto a me c'è Walter Merler, vi raccontiamo in prima parte del webinar l'esperienza dei comuni trentini, nella seconda parte del webinar la terra delle gravine. Vi dicevo, siamo in buona compagnia, c'è Walter con me, c'è Francesca Gleria, c'è Gabriele Francescotto sul primo intervento e poi qui in basso nella seconda parte del webinar c'è Pierre Soft, già eroe del precedente webinar sui comuni e che torna oggi e ci racconta un'esperienza un po' diversa, la scorsa settimana ci ha parlato di Matera, oggi ci racconta l'esperienza della terra delle gravine. Vi dicevo, il mio compito è semplicemente quello di temporeggiare un po' per dar modo a tutte le persone che si sono iscritte di accedere in aula. Inizio presentandovi questo brevissimo ciclo di seminari, di due seminari che ci è venuto in mente, che abbiamo voluto portare avanti tra le attività redazionali del portale dati.gov.it. Ci sono stati due webinar, il primo la scorsa settimana abbiamo raccontato l'esperienza di due comuni medio-grandi, cioè di Milano e di Matera e oggi ci piaceva raccontare qualcosa di un po' più piccolo, qualcosa di diverso, partendo appunto dalle esperienze federate, cioè da quelle esperienze che raccolgono comuni più piccoli, che sono la parte più consistente del patrimonio dei comuni italiani e li aggregano, i nostri relatori oggi ci spiegheranno un po' meglio come funziona e di che cosa si tratta. Tutte le informazioni relative a questo ciclo di webinar le trovate ovviamente sulla pagina dati.gov, il link è quello che vedete qui in basso, il ciclo si chiama Open Data nei comuni italiani, non poteva essere più semplice. L'idea è quella di non fermarsi qui, ve lo anticipo, cioè abbiamo portato avanti questi primi due webinar, ma probabilmente non ci fermiamo, nel senso che nelle prossime settimane ovviamente torneremo ad avvisarvi via canale Twitter di dati.gov, via sezione news, sempre nel portale dati.gov.it, l'idea è quella di tornare a raccontare, sempre in una formula che è quella del webinar di un'oretta, altre esperienze di altri comuni e più in generale di altri enti pubblici italiani. Il ragionamento, ve lo accennavo l'altra volta, credo che valga la pena tornarci anche per questo webinar, l'idea di raccontare le esperienze comuni ci è venuta in mente guardando i numeri, guardando i dati, potete vedere su questa pagina, che è una delle sezioni del portale avanzamento e trasformazione digitale, cioè una specie di cruscottone con cui l'Agenzia per l'Italia digitale tiene traccia di quelle che sono le principali politiche pubbliche di innovazione, ce n'è una dedicata ai dati, che in particolare riprende i dati del portale dati.gov.it. In questo caso è facile vedere sul secondo grafico, la seconda torta, come in questo momento i dati che arrivano dai comuni rappresentino più del 50% del patrimonio informativo reso disponibile dalle pubbliche amministrazioni italiane in formato aperto. Quindi certamente è importante provare a ragionare, provare a condividere, provare a raccontare le esperienze dei comuni italiani per capire come si sono organizzati e sperando, augurandoci che questi seminari possono essere utili per avere un minimo di spunto sul cui replicare queste esperienze. Vi dicevo che oggi trattiamo due esperienze diverse ma simili, nel senso che nella prima parte ci spostiamo nel Trentino e raccontiamo l'esperienza federata dei comuni del Trentino, che è una cosa importante, una cosa che va avanti da un po', Walter, Gabriele e Francesca ci raccontano un po' meglio qual è stata l'organizzazione, quali sono state le scelte che hanno fatto, le scelte tecnologiche, le scelte organizzative, che credo siano particolarmente importanti per chi vuole ritornare ad un'esperienza simile. Mentre nella seconda parte scendiamo nelle mie puglie e grazie a Peersoft vi raccontiamo un'esperienza differente, cioè l'esperienza della terra delle gravine, il Grand Canyon delle puglie, proviamo a capire con l'aiuto di Peersoft come si sono organizzati, com'è che l'esperienza sta andando avanti e come ancora una volta potrebbe essere replicata. Io ci tengo particolarmente, prima di chiudere questo intervento, a dirvi che come da tradizione la chat su cui già avete scritto, e in questo momento Alessandra la sta scrivendo, è assolutamente libera, quindi qualunque domanda vi dovesse venire in mente da porre ai nostri relatori, non esitate a utilizzarla, poi noi ci preoccupiamo noi di proporre le vostre domande ai relatori a conclusione dei loro interventi, ci piace in logica di riuso, in logica di apertura del patrimonio informativo, in logica di forte augurio che queste attenze ancora una volta possono essere replicate, mettere a disposizione tutti i materiali, di tutta la conoscenza che viene sviluppata nell'ambito di queste iniziative attraverso la piattaforma Eventi.pa, e in questo caso rendiamo disponibile la registrazione integrale di questo webinar che stiamo facendo in questo momento, embeddata dal canale YouTube del Formats, e le slide che utilizzano i nostri relatori, pensiamo possa essere utile per avere un po' di punti di riferimento. L'ultima cosa che ho da dirvi è che sia la presentazione che le slide le ritrovate esattamente sulla pagina da cui vi siete iscritti, quindi la pagina è questa qui, è una pagina di Eventi.pa, resterà pubblica e aperta a tutti, e da questo pomeriggio, nella peggiore dell'ipotesi, da domani mattina dovreste ritrovare qui tutti i materiali proposti oggi. Io credo di avervi più o meno raccontato tutto, quindi non vorrei rubare altro tempo agli veri e propri interventi del webinar di oggi, quindi penso che taccio la mia logorrea, passo la parola a Walter Merler, chiedo a Persoft di chiudere la sua webcam, il suo microfono, ormai Persoft è abilissimo come relatori di web, quindi non ho neanche bisogno di chiederlo. A te Walter, grazie a qua. Grazie e ciao a tutti. Io ho accettato molto volentieri questo invito di Gianfranco perché il taglio e l'impostazione che lui ha dato a questo webinar credo possano consentire molto semplicemente di dirvi un po' quella che è stata la nostra esperienza, il metodo che abbiamo usato, la ricetta che abbiamo utilizzato per raggiungere dei risultati, degli obiettivi che non ne faccio una questione quantitativa, però insomma hanno portato in questi ultimi quattro anni alla pubblicazione di circa 4.000 dataset provenienti dai comuni trentini. Ci tengo innanzitutto a dire, proprio per, e riprendo quello che diceva Gianfranco sulla possibilità di riuso, di replica di ciò che è stato fatto in Trentino, che in Trentino non siamo diversi dagli altri. I comuni, e poi vi dirò un po' qual è il contesto in cui ci troviamo, sono comuni dalle caratteristiche analoghe a quelle del resto del paese, gli amministratori comunali idem, i dipendenti idem, e per quanto riguarda le imprese, e cito quello che aveva avuto modo di dire Gabriele Ciasullo in un convegno che si è tenuto a Trento qualche mese fa, la PIA deve preoccuparsi relativamente poco poi di cosa faranno le imprese di questi dati, perché senza dubbio le imprese hanno creatività e fantasia maggiori della PIA, quindi sapranno certamente cosa farne, e non è un nostro problema quello di individuare poi quale può essere l'output che deriva dall'utilizzo dei dati. L'importante è in effetti produrre e liberare dati ed informazioni pubbliche che provengono dai nostri comuni. Diciamo che il contesto in cui ci troviamo in Trentino è un contesto che vede un numero di 177 comuni, 5 anni fa, anzi meglio 3 anni fa erano 223, quindi grazie a un processo di riforma istituzionale molto spinta di fatto sono andati a fusione in 42 processi proposti, 29 che hanno portato esito positivo, sono andati a fusione appunto circa 130 comuni sono stati interessati dai processi complessivamente e 50 comuni sono stati diciamo di fatto eliminati e sostituiti con nuovi comuni nati da processi di fusione. Tenete presente che nonostante questo processo a fronte di un dato nazionale che attesta intorno al 70-72% il numero dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti in Trentino siamo ancora al 90% di comuni con densità demografica o meglio consistenza demografica sotto i 5.000 abitanti. Quindi immaginatevi una realtà di comuni medio-piccoli dove tendenzialmente anche in termini di percezione è ancora più difficile portare temi come quelli che oggi sono in discussione in questo webinar. Devo dirvi che dal punto di vista di ciò che abbiamo fatto abbiamo tenuto in considerazione in prima battuta quello che era il contesto in cui andavamo ad agire. Il termine open data abbiamo dovuto farlo conoscere è un tema ancora di nicchia che non tutti conoscono quando si parla di dati e informazioni pubbliche il pensiero va immediatamente a problemi connessi con la privacy non è facile convincere le amministrazioni comunali a liberare dati. Quindi il metodo che abbiamo pensato di adottare e che in effetti fino ad oggi ci ha dato ragione è stato quello di partire da una infrastruttura che possiamo definire proprio un vero e proprio ecosistema dove vario titolo, amministratori, dipendenti comunali il consorzio dei comuni, gli interlocutori istituzionali presenti sul territorio danno tutti il loro contributo di fatto vincono tutti. Abbiamo quindi messo a punto una piattaforma informativa dei portali istituzionali che nel giro di 4 anni sono stati distribuiti praticamente in tutti i comuni in tutte le comunità di valle questa piattaforma che poi Gabriele Francescotto in particolare vi presenterà va sotto il nome di Common Web abbiamo creato una community che oggi vede circa 1150 dipendenti comunali pubblicare informazioni secondo una metodi standard sono costantemente formati, aggiornati li leghiamo noi attraverso una catena della fiducia che ormai coinvolge il consorzio dei comuni amministratori, dipendenti e qualunque soggetto si cimenti in questo settore abbiamo pensato che il termine Open Data fosse utilizzato in un modo un po' particolare abbiamo pensato di progettare pensando Open Data abbiamo pensato di realizzare ciò che andavamo a fare pensando Open Data cercando sempre veramente il valore delle cose che stavamo facendo e pensare a output concreti che poi dessero la dimostrazione di quanto sia importante liberare questi dati e sarà poi l'intervento di Gabriele che andrà a mostrare concretamente ciò che abbiamo prodotto a dirvi la verità non abbiamo mai calcato più di tanto la mano su cosa fossero gli Open Data ma abbiamo fatto in modo di creare una sorta di effetto collaterale positivo cioè intanto fate questo, fidatevi se vi diciamo che metterci un po' di impegno a pubblicare dati in un certo modo ne vale la pena sappiamo quel che diciamo quindi il tutto è impostato in una relazione quotidiana con i nostri comuni dove per quanto riguarda il metodo devo dire che non ci siamo inventati nulla di nuovo devo dirvi che grazie anche a una collaborazione con FPA e in particolare con il suo direttore, con Gianni Dominici ci siamo basati su quello che è conosciuto un po' come il metodo delle 4 E quindi una prima E che sta per endorsement ci siamo resi immediatamente conto che non potevano essere portati avanti progetti di questo tipo senza che gli amministratori fossero assolutamente consapevoli e convinti di ciò che si andava a fare senza il loro convincimento senza la loro buona volontà a procedere in tal senso non si sarebbe nemmeno potuti entrare all'interno delle strutture una seconda E che abbiamo cercato di portare avanti è il termine enforcement ci siamo basati su tecnologie che fossero tecnologie all'altezza di ciò che andavamo facendo e da qui devo dire che l'incrocio con Gabriele Francescotto è stato determinante tutto ciò che è stato prodotto in termini di tecnologia che poi lui dimostrerà è stato fatto in maniera egregia con un costante anche contatto con Agile con team digitale, con tutti coloro che a livello nazionale portano avanti questi temi sicuramente abbiamo pensato al concetto della terza E cioè l'empowerment anche qui portare temi come quello dell'open data all'interno dei comuni senza anticipare conoscenza e formazione era tempo perso abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di sensibilizzazione, di formazione, di informazione e questo ha dato ottimi frutti perché nel momento in cui abbiamo deciso di aprire i portali abbiamo avuto un'adesione massiva e di questo devo ringraziare di tutti i segretari comunali tutti i comuni hanno dato il loro benestare per aprire questi dati e queste informazioni sicuramente e sarà uno degli esempi che oggi Gabriele dimostrerà abbiamo tenuto presente anche la quarta e cioè l'engagement anche qui non possiamo prescindere da cittadini che al tempo stesso siano sì fruttori di servizi ma anche produttori di servizi quindi anche qui informazione mirata magari attraverso i comuni però esempi e buone pratiche di utilizzo da parte del cittadino di ciò che stavamo facendo questa forse è la chiave del successo e cioè non insistere molto su ciò che gli open data sono ma insistere invece molto affinché ci sia la possibilità di far nascere sul territorio delle piccole esperienze che poi dimostrerà Gabriele che vengono poi portate all'attenzione di tutti come dimostrazione di ciò che con gli open data si può fare e vi devo dire che oggi anche grazie al lavoro che sta facendo Francesca sul territorio provinciale e eventi come quello che lei ha organizzato negli ultimi giorni qui a Trento devo dirvi che c'è sempre di più una maggior spinta delle imprese a poter tra virgolette giocare con questi dati fare cose nuove con questi dati quindi ecco io direi che è molto più interessante adesso se Gabriele vi illustra ciò che è il frutto poi di questo lavoro che negli ultimi quattro anni come consorzio abbiamo fatto ci tengo a dire che è un lavoro assolutamente nato dal basso quindi non è stato imposto nulla c'è un'adesione assolutamente volontaria da parte dei comuni che durante tutto questo percorso sono stati un po' per così dire anche indotti ad avere curiosità rispetto a ciò che facevamo abbiamo imparato che una piccola esperienza di applicazione un piccolo microservizio che nasce sulla produzione di questi open data fa scaturire un effetto a catena per cui banalmente su open agenda che vedrete fra poco nel giro di pochi mesi noi abbiamo avuto una serie significativa importante di enti che con la scusa di prendersi questo servizio hanno imparato di fatto cosa vuol dire fare open data eccoci qua buongiorno a tutti dunque io riprendo l'ultimo concetto espresso da Walter Merler per cercare di entrare un attimo più nel tecnico insomma cercare di descrivere anche dal punto di vista organizzativo quello che abbiamo portato avanti all'interno dell'iniziativa appunto ComunWeb ComunWeb di fatto può essere definito come un metodo e una tecnologia a supporto diciamo di questo metodo che vi ha appena illustrato Walter che è nato per risolvere problemi naturalmente cioè una delle cose molto concrete che sta facendo il Consolto dei Comuni è cercare di risolvere una serie di problematiche molto concrete e contingenti che hanno le persone che lavorano all'interno delle pubbliche amministrazioni innanzitutto qui in questo caso la sfida era posta sulla multicanalità quindi capacità da parte dei redattori quindi di funzionari comunali di gestire contemporaneamente più canali e la regola di base era naturalmente quella di poter gestire anche quelli del web separando nettamente ciò che è il contenuto dalla forma con cui il contenuto vi è rappresentato e la nostra missione naturalmente è stata cercare di mettergli a disposizione anche una tecnologia per risolvere questo tipo di problema quindi oggi hanno con ComunWeb un modo per strutturare e gestire le informazioni separatamente rispetto ai canali attraverso cui vengono veicolati i dati e naturalmente in questo abbiamo proposto dei metodi un po' più agili e agevoli insomma per ottimizzare anche i tempi necessari per pubblicare dati e in tutto questo la mission che sta alla base è quella di mettere tutti quanti i soggetti coinvolti quindi inizialmente funzionali comunali adesso e anche i cittadini di trasferire la propria conoscenza all'interno di ambienti controllati all'interno delle macchine in modo tale che anche le macchine che sono prettamente stupide potessero capire qual è questo pezzettino, questo frammento di conoscenza che ogni persona naturalmente si porta dietro ciascuna con le proprie professionalità, competenze che possono essere interne alla pubblica amministrazione ma anche lato cittadino non è il caso in cui il presidente di un'organizzazione, per esempio di un'associazione si trovi a organizzare un evento quindi il nocciolo della questione, il fattore chiave consisteva nello strutturare molto bene, quindi attraverso classi di contenuto i portali istituzionali e la scoperta che abbiamo fatto naturalmente è stata che gestendo informazione pubblica i portali istituzionali ci davano tutta una serie di possibilità anche per erogare in maniera aperta i dati che ci siamo preoccupati fin dall'inizio a gestire in modo tale che fossero comprensibili per le macchine quindi machine readable data e abbiamo mappato tutto quello che abbiamo trovato all'interno dei portali quindi di questi spazi pubblici insomma disponibili su web le informazioni e ci siamo dati progressivamente delle regole per farlo i risultati quali sono stati? beh dall'inizio che abbiamo iniziato a cambiare sempre in termini di open data un po' la catena del valore che partiva insomma da dati piuttosto complessi in termini di formati e facendo risparmiare un sacco di lavoro anche alle imprese che arrivavano e dovevano affinare, raffinare, pulire i dati che comparivano insomma sui vari portali web nelle forme più diverse cercando di fare due operazioni uno è quello di renderli più consumabili quindi molto più velocemente estraibili dai portali attraverso un'interfaccia API e dall'altro naturalmente proporre un metodo per omogeneizzare queste strutture avendo perfettamente consapevolezza del fatto che se le varie aziende interessate al riutilizzo accedono anche ai database dei piccoli a questi portali aperti in qualche modo dei piccoli comuni avranno molto più facilità a farlo se potranno replicare esattamente questo tipo di esperienza in altri comuni o in comuni più grandi e da questo punto di vista quindi siamo riusciti a ottimizzare un po' la filiera quindi poter pubblicare da parte del lente un'informazione strutturata significa metterla immediatamente a disposizione aggiornata anche attraverso questo layer di API e in questo modo risolviamo immediatamente il problema della multicanalità l'informazione può essere ripresa su più canali digitali ma anche essere erogata via API per chi vuole ovviamente sviluppare applicazioni interse e se guardate, questa è una curiosità all'interno di tutti i siti che abbiamo realizzato questi portali istituzionali che abbiamo realizzato fino adesso all'interno di questo percorso quindi dominio barra open data barra console è possibile interrogare il sistema e avere dei dati strutturati cliccando su quel link che vi compare in corrispondenza della freccina rossa voglio estrarre tutti gli eventi per esempio di un portale posso interrogare il database e il sistema mi risponde con un formato aperto che è questo poi di fatto vedete che ci sono informazioni che piacciono molto alle macchine come formato primo vantaggio quindi è quello dell'automazione cioè creare in automatico una sezione interna al portale istituzionale finalizzata a dar valore agli open data quindi dove vengono collezionate anche ricercabili i dataset altro valore è naturalmente la pubblicazione sempre automatica di almeno due informazioni sul portale provinciale degli open data significa pubblicare i dataset in più formati significa però anche definire in maniera automatica la struttura che questi hanno e naturalmente quello che abbiamo iniziato a creare ed è stato un elemento di facilitazione notevole il portale open data trentino è stata una catena in qualche modo di portali che fossero tutti quanti potenzialmente collegabili grazie a questa omogeneità di infrastruttura tra di essi quindi l'occasione questo ha fatto particolarmente piacere al Consorzio dei Comuni è stata iniziare a consolidare una serie di relazioni istituzionali tra enti innanzitutto ma anche facilitare le relazioni tra imprese e enti tutto attraverso i portali e cercare di dare veramente valore alle persone coinvolte il cuore pulsante di ComunWeb oggi al di là di tutta una serie di soggetti aderenti sono proprio i redattori avevano numeri altissimi di persone che conoscono un metodo capiscono il valore di una tecnologia e capiscono quello che ha il senso di mettere un dato in un portale una volta immesso viene distribuito potenzialmente ovunque è naturale che arrivati a un livello di maturità ormai piuttosto significativo anche di questo progetto ci ha interrogati su quale fosse il modello di dati quindi la strutturazione che i dati dovessero avere nel momento in cui volessimo veramente spingere su una diffusione, un riuso dei dati e quindi naturalmente come andare a strutturare a beneficio di molti ormai visto che sono quasi 200 gli enti aderenti l'impatto degli open data quindi partendo dalle nostre classi di contenuto il database, il modello dati che ci portiamo avanti da un po' di tempo abbiamo cercato di capire quelle che potevano essere le iniziative più vicine a noi e abbiamo intercettato alla fine dell'estate scorsa questa ottima iniziativa di Agit che seguiamo come guida quindi stanno mappando a livello di Agit tutta una serie di dati e informazioni per noi utilissime che noi seguiamo per la strutturazione sia di portali istituzionali che di una serie di altri servizi collaterali e naturalmente Agit in questo è a garanzia del fatto che chiunque, qualsiasi impresa eccetera, potrà trovarsi dei servizi che noi eroghiamo a livello locale che seguono naturalmente uno standard quindi l'idea è quella di continuare a rimanere agganciati a livello nazionale affinché a livello locale sia in termini di modello dati sia in termini di vocabolari controllati possiamo avere un allineamento costante e quindi trainare anche tutto questo sforzo che i 1200 e oltre redattori continuano a fare su base quotidiana e dal punto di vista dell'allineamento delle classi di contenuto abbiamo già delle esperienze molto interessanti facendo riferimento appunto a questi vocabolari ogni volta che si pone la questione di far evolvere il modello che è pensato anche dal punto di vista tecnologico per essere costantemente affinato e prendiamo le esperienze migliori in questo caso ormai è la provincia che è più competente naturalmente verticale sulle singole questioni e quindi che può aiutarci a perfezionare il modello anche con degli esempi pratici quando dobbiamo gestire i profili di persone di organizzazioni, di servizi pubblici o di eventi pubblici e che può darvi i contributi in modo tale che tutti i comuni attraverso il loro sistema se ne vantaggino andando verso una generale omogeneizzazione dei dati e l'esempio concreto è quello di Open Agenda per esempio un microservizio che non fa altro che mostrare eventi raccolti dalle associazioni di un territorio in questo caso abbiamo un comune che abilita tipicamente 80 o 100 cittadini tutti quanti responsabilizzati da login e password per la gestione una cogestione di eventi pubblici entrano all'interno del sistema usano un format a questo punto assolutamente omogeneo in tutto il territorio per codificare sia l'evento sia il profilo dell'associazione i vantaggi sono innumerevoli quindi si hanno maggior diffusione si ha un arricchimento progressivo del dato e naturalmente una catena di fiducia che porta a far sì che quel dato finisca in reti molto più ampie rispetto a quelli a cui ha accesso tipicamente un'organizzazione privata quindi il paradigma introdotto è stato quello di un cambio di mestiere di un cambio di ruolo da parte del comune che fa un passo indietro non inserisce più i dati lascia che sia il cittadino attraverso questa filiera a gestire i dati abbiamo notato naturalmente un aumento impressionante sia in termini di volumi di eventi da 5 eventi mediamente al mese a 200 eventi al mese sullo stesso comune e un arricchimento naturalmente della qualità dell'informazione e qui salto questione finale visto che manca pochissimo tempo è l'apertura naturalmente quindi riprendo il concetto un concetto insomma che c'è particolarmente caro che è quello dell'open innovation che lascia spazio a qualsiasi soggetto pubblico o privato a migliorare questo modello il caso di open agenda è stato interessante perché è definita una piattaforma di base con delle regole di base con delle API standard possiamo far convergere una serie di dati e informazioni rispettando delle regole che vengono definite a livello nazionale e ovviamente contribuendo ad aumentare l'impatto naturalmente che questa informazione pubblica deve avere a vantaggio sia di cittadini immaginiamo le associazioni che inseriscono gli eventi o migliorano i propri profili e naturalmente dell'ende pubblico con le sue naturalmente politiche pubbliche ok allora alle domande come possiamo rispondere alla fine raccogliamo e poi rispondiamo alla fine che dici? Giafranco come pensate sia meglio io direi di come pensate sia meglio un paio di si facciamo vai vai Francesca ok allora ciao a tutti allora le altre slide ciao a tutti sono Francesca Gleria appunto mi occupo del progetto open data in Trentino e dopo quello che ci hanno raccontato Walter e Gabriele è che con questo focus veramente molto concreto e operativo su su cosa sta accadendo nei comuni qui compresi i veri piccoli comuni dai piccoli ai grandi farò un passo indietro diciamo un po' più generale per capire allora a sto punto che funzione ha un portale un nodo regionale per gli open data cioè che cosa può fare cosa serve che cos'è il portale dei dati trentini a livello provinciale o regionale allora in generale direi che si è parto da un risultato veramente generale ma che è molto importante per capire il valore come si fa a dare valore ai nostri dati allora si è sempre parte anche amministrativamente di qualcosa ad altro allora abbiamo 176 77 comuni 15 comunità una regione assieme a Boltano 48 progetti con i comuni confinanti che sta gestendo Boltano e Trento abbiamo 19 regioni due province autonome 14 città metropolitane 7.000 cioè 8 cosa sono più o meno 8.000 comuni 28 membri dell'Unione Europea e circa 62 euro regioni allora cosa vuol dire vuol dire che tutti questi soggetti si relazionano ai cittadini ai cittadini sono sempre gli stessi più o meno diversi dal punto di vista territoriale ma di fatto ogni cittadino ha a che fare con tutte queste istituzioni allora cosa cosa significa questo significa che abbiamo una rete fitta di tante pubbliche amministrazioni tanti comuni con vocazioni e bisogni differenziati e tanti diversi livelli di responsabilità verso i cittadini ognuno di questi livelli risponde a bisogni diversi dei cittadini e insieme gestiscono il territorio ok i comuni dal loro punto di vista le province le regioni dal loro punto di vista a livello nazionale lo stato dal suo punto di vista e a livello europeo le politiche europee le scelte le scelte di crescita di sviluppo le politiche culturali sociali e ambientali tutte vengono gestite a partire da diversi livelli di governance nel punto di incontro della rete di tutti questi attori istituzionali e delle azioni che si fanno per il cittadino che è sempre lo stesso di tutte le scelte di governance e di politica il punto di incontro dal nostro punto di vista ovviamente di questa cosa noi troviamo i dati cioè le informazioni il punto di contatto diciamo in qualche modo codificato fra i cittadini e gli enti pubblici allora aspetta che vado avanti eccolo qua allora quindi da questo punto di vista i dati sono uno strumento per conoscere e decidere per rendicontare e anche per permettere lo sviluppo di nuove imprese quindi hanno un valore economico fanno conoscenza e sono pubblici cosa deve fare a questo punto il nostro cosa è la funzione del nostro portale e di un portale di un nodo unico di accesso ai dati è quello di tutelare e aumentare il valore economico di quei dati queste sono varie statistime le sappiamo tutte della crescita legata ai dati a livello europeo nazionale e quindi anche locale questo è il nostro modello federato quindi in cui abbiamo detto cerchiamo di valorizzare in modo assieme tutti questi dati perché i dati che possono avere un significato solo all'interno di un piccolo comune o di un piccolo territorio come il Trentino non ha nessun valore i dati acquistano valore nel momento in cui il loro valore dipende dal loro essere riusabili al di fuori del contesto in cui sono usati per cui sono stati creati e sono riusabili quando sono le solite cose legittimi leggibili dagli umani leggibili dalle macchine e affidabili quindi la funzione del portale è quello di tutelare e garantire processi che mantengano il valore dei dati e accompagnare di fatto il cambiamento organizzativo attorno alla cultura del dato quindi cosa abbiamo fatto abbiamo ad esempio definito una checklist che mi possa garantire dei processi legittimi dove io di fatto posso proporre a tutte le persone titolari dei dati di ragionare sui passaggi importanti sei veramente tu il titolare di quei dati che stai aprendo per caso quei dati fanno riferimento in qualche modo a dati personali allora a seconda di cosa rispondi vai da una parte o vai da quell'altra e comunque non si pubblicano dati che non sia legittimo pubblicare perché quei dati non hanno valore allora garantire dati leggibili e uniformi abbiamo definito ci siamo resi conto che metadattare cioè spiegare mettere a fianco alle specifiche del DKT chi è il titolare chi è il publisher chi è cosa non è poi così semplicissimo è facile che a volte si creino di nuovo sempre delle complicazioni ma che cos'è ma che cos'è ma che anche perché le redazioni sono diffuse quindi abbiamo definito delle spieghe proprio semplicissime insieme agli altri in modo tale che si cerchi di creare un'uniformità nel modo di dare valore ai nostri dati garantire un punto unico di accesso e di ricerca tramite PI avete visto tramite c'è un nodo se qualcuno è interessato ai dati relativi agli organi politici dei comuni la parola chiave è organi politici e poi ce li ha tutti strutturati giustamente come ha fatto con le politiche del consorzio in modo uniforme e quindi le aziende più facilmente agli interessati a quei dati riescono a riusarli e poi ovviamente garantire standard di interoperabilità semantica di cui ha parlato anche Gabriele che permettono di dare valore ai nostri dati locali in termini internazionali e poi ovviamente partecipare come territorio alla comunità nazionale impegnata nella realizzazione del piano triennale l'altra interessante funzione che può avere e che sta avendo il nostro nodo dei dati aperti regionali è di coinvolgere le imprese per avvicinare la domanda e l'offerta dei dati che è l'unica garanzia che ho per avere dati di qualità cioè i miei dati sono buoni se le aziende li usano e sono loro che mi diranno guarda che i tuoi dati non vanno bene mi servirebbero così e quindi io posso andare a migliorarli abbiamo organizzato questo hackathon sui chatbot a marzo all'inizio di questo mese e proprio per questo motivo due giorni con sei sfide che venivano dal servizio pubblico quindi i nostri colleghi che si sono incontrati con aziende e studenti che hanno sviluppato dei bot a partire da dati reali messi a disposizione esattamente per la hackabot questo ha creato un cortocircuito molto produttivo di conoscenza fra gli uffici gli studenti e le imprese e questo è una delle azioni che consiglio a tutti il più possibile per poter vedere concretamente fino in fondo tutti i passaggi di questo processo di valorizzazione dei dati allora questo poi ultima cosettina vabbè a che punto siamo abbiamo grazie anche al consorzio dei comuni stiamo continuando a pubblicare dati che sono anche ricercati e chiuderei in questo modo che è un po' forse un po' pomposo però il concetto secondo me è interessante è il solito concetto di locale cioè di locale e globale insieme allora valorizzare le peculiarità dei piccoli comuni quelli piccoli dentro la rete internazionale di beni servizi e persone e il piccolo comune è dentro una rete di interessi di economie di turismo non è da solo lì isolato allora il dare valore al locale si può fare grazie alla connessione fisica e logica con delle reti globali la connessione fisica la danno i mezzi di trasporto le reti le reti la possibilità di essere collegati a internet la connessione logica significa che i nostri dati le informazioni di quel piccolo comune possono essere ritrovati perché sono standardizzati perché sono di qualità perché sono legittimi possono essere trovati in tutto la rete europea di quello che sta dietro al digital single market o a quello che si sta creando di queste nuove economie allora questa è la sfida secondo me che viene posta dalla transizione al digitale alle pubbliche amministrazioni locali e anche la funzione nel nostro caso di un nodo regionale per i dati aperti cioè prendere il locale cioè prendere tutto il buono che viene prodotto a livello locale metterlo in rete grazie anche a esperienze federate come quelle del consorzio di comuni con queste collegarle agli altri enti del territorio le agenzie la provincia eccetera con questi collegarsi a quelli nazionali e in questo modo aver creato una rete di un patrimonio informativo importantissimo che è dato dai dati e io qui avrei finito spero di essere stata grazie mille c'erano un paio di domande per voi le vedete qui riportate in chat io faccio una sintesi la prima era di Piersoft che vi chiedeva una dimensione rispetto al costo all'investimento a quanto tutto questo ha comportato e una seconda domanda invece arriva da Vincenzo riguarda sostanzialmente il riuso dei dati cioè se avete notizie rispetto a chi o come vengono riutilizzati i dati di cui ci avete raccontato oggi allora io gli rispondo per quanto riguarda costi allora tenete conto che oggi se un comune facciamo un esempio di quella decina di comuni che dovessero che mancano oggi penso dovrebbe essere una decina allora il costo di installazione della nuova piattaforma funziona così il comune chiede l'attivazione del sito al consorzio dei comuni trentini il consorzio dei comuni si gira verso open content che ha vinto recentemente la gara europea per la gestione del servizio per i prossimi tre anni vi dico anche le cifre paga a Gabriele Francescotto tanto non ci sono segreti sono soldi pubblici che girano quindi ve lo dico paga a Gabriele Francescotto 1120 euro attraverso questo incarico che costa la cifra che vi ho detto Gabriele Francescotto attiva la piattaforma poi calcolate che come consorzio dei comuni noi eroghiamo un servizio di contributo di aiuto alla migrazione dalla vecchia alla nuova piattaforma e di formazione che poi peraltro rientra nella quota associativa del consorzio ma se dovessimo quantificarla parliamo comunque di 3-400 euro tutto compreso quindi grosso modo oggi per un comune che deve istanziare come un web la spesa è di 1120 euro più costi indiretti e diretti del consorzio siamo attorno ai 1400 euro di diciamo di fattura che io presento al comune per quanto riguarda invece i costi di mantenimento e quando parlo di mantenimento parlo di servizio di manutenzione correttiva adeguativa e hosting quello che noi oggi paghiamo a open content che è praticamente l'azienda di Gabriele Francescotto che ci eroga il servizio per le circa 200 piattaforme che oggi abbiamo attive stiamo parlando di una cifra onnicomprensiva anche del servizio di assistenza 24 per 7 per 365 che si aggira intorno forfettariamente quindi a prescindere da quanti comuni arriveranno anche nel prossimo futuro o quanti microservizi attiveranno verranno attivati nel futuro intorno se non vado errato ai 75.000 euro onnicomprensivi all'anno quindi fate voi i conti e dividete per 200 perché più o meno sono 200 le piattaforme che abbiamo fuori quello che può uscirne e poi abbiamo ho detto male Francescotto ci fa l'assistenza sistemistica più che il servizio hosting l'hosting noi lo abbiamo con la nostra società di sistema e la spesa per la gestione del servizio di hosting si attesta intorno ai 30.000 euro onnicomprensivi annui quindi dal punto di vista della gestione il costo di mantenimento di queste 200 piattaforme oggi attive sul territorio che ricordo producono open data come effetto collaterale noi abbiamo fatte per produrre open data ma le abbiamo progettate pensando open data ha un costo che si attesta intorno ai 100.000 euro 110.000 euro all'anno e un costo di attivazione a carico del comune di circa 1.400 euro per piattaforma evidentemente poi il consorzio dei comuni erogando anche la manutenzione e l'assistenza in termini di servizio agli antisoci evidentemente spalma questi 110.000 euro di costi per 200 più costi diretti indiretti siamo su una media insomma intorno agli 800 900 1000 euro di canone annuo a comune li abbiamo differenziati in maniera un po' arbitraria sulla base della consistenza demografica dei comuni però ecco queste sono le cifre che oggi girano quindi tanto per capirci non è che questa cosa viene fatta in Trentino perché in Trentino siamo pieni di soldi o perché abbiamo possibilità superiori alla media diciamo che la classica la classica economia di scala più siamo meno paghiamo ecco tutto questo spero di essere stato abbastanza chiaro sui costi assolutamente sì Walter grazie mille ottimo invece io vi posso dare una risposta per quel che riguarda la seconda domanda cioè come le imprese possono accedere ai dati allora probabilmente siamo andati un po' veloci nella presentazione di prima comunque c'è un portale dati Trentino it naturalmente che tiene tutto insieme e quindi che mostra esattamente insomma quelli che sono i dataset disponibili contenenti evidentemente tutti i dati in formati diversi quelle che sono le licenze di utilizzo quello che è l'ente che ha rilasciato il dato eccetera eccetera e dal punto di vista degli strumenti tutte queste sono informazioni che vengono rilasciate attraverso le IR API quindi sono sostanzialmente dei web service molto leggeri vengono erogati direttamente dalle piattaforme dei comuni quindi sono consultabili in forma aperta e quindi qualsiasi azienda insomma che aveva l'interesse può utilizzarli per integrarli all'interno del proprio applicativo e come esperienze già realizzate mi viene in mente la più recente insomma ce ne sono già diverse la più recente è stata quella di un chatbot che si è che si appoggia ai dati di Open Agenda quindi è stato fatto per Facebook per Telegram e utilizza le API di Open Agenda sia per estrarre i dati degli eventi sia per estrarre i profili delle associazioni e vengono resi insomma consumabili utilizzabili attraverso le interfacce tipiche dei chatbot ecco tutto questo senza naturalmente che ci fosse nessuna necessità di integrazione quindi lato nostro abbiamo avuto un costo nullo sostanzialmente per mettere a disposizione la cosa infatti via chat prima la chiacchiera ci portava a dire che è una sorta di Open Data by Information Design è molto interessante l'idea che l'Open Data non sia il centro ma sia un derivato di un'operazione più ampia e che poi per forza di così arrivi già standardizzato è accessibile è convogliabile in uno dei contenitori più grandi io torno a ringraziarvi ancora una volta siamo andati lunghissimi per questo mi scuso con Piostoft secondo relatore di oggi a cui chiederei di aprire la sua webcam e il suo microfono vedo ok sì qui invece è mestiere mio lanciare le slide dovrebbero arrivare presto torno a ringraziare tutti i relatori Walter Gabriele Francesca che ci hanno raccontato le esperienze del Trentino mi auguro che vi siate divertiti a partecipare a questa prima parte del webinar siamo andati un po' lunghi per questo mi scuso assai con Piostoft se sforiamo di qualche minuto assolutamente grazie Gianfranco è difficile parlare dopo il Trentino secondo me il Trentino è in assoluto la migliore diciamo la migliore esperienza completa degli open data in Italia perché non guarda soltanto gli open data dal punto di vista dell'adempimento né dal punto di vista tecnico ma anche dell'impatto sociale e del coinvolgimento delle aziende quindi per me è un grande piacere oggi io parlerò darò un taglio un po' diverso parlerò di un'esperienza specifica che nasce da un bando del Ministero della Pubblica del Ministero dei beni culturali dell'attività culturale del turismo un gruppo di 12 comuni che hanno un territorio che morfologicamente si chiama Le Gravine che è una specie di canyon che li accomuna e i comuni sono il comune di Leggete ma in alto comunque sono il comune di Massafra il comune di Castanete il comune di Cristiano di Ginosa di Brottaglia di La Terza di Montemessola di Mottola di Palagiano Palagianello San Martanese San Giuseppe è distante sono comuni molto piccoli molto variegati dai 3.000 ai 30.000 abitanti hanno vinto questo bando e il bando era declinato in vari assi la project manager la dottoressa Lazzaro ha fatto un bando specificatamente per gli open data per i portatori di interesse per gli esperti di destination management perché il cuore del bando era creare dei dati dei percorsi che siano fruibili per dare un turismo esperienziale e una valorizzazione del territorio che cosa sono 19 bandi in tutta Italia 7 sono stati vinti solo in Puglia quindi parliamo di un bando per i fondi gestiti da fondi europei la difficoltà qual'era? ormai penso che sia chiara nell'infrastruttura unire dei comuni e del territorio e quindi fare una forte opera di coordinamento la prima cosa che abbiamo fatto con la società di cui io faccio parte di Certo di Sviluppo con l'architetto Fedele Congedo come avete già sentito per Matera abbiamo fatto degli incontri con i portatori di interessi la prima cosa la prima parte l'hanno fatto degli esperti di coinvolgimento e i portatori di interessi parliamo di qualche centinaia di portatori di interesse non parliamo di uno o due parliamo di esperti del settore del turismo delle distribuzioni turistiche di siti web di app che preventivamente hanno detto noi abbiamo la necessità di avere delle informazioni sul vostro territorio informazioni sul vostro territorio su delle cose che secondo noi sono molto belle da valorizzare dico cose perché possono essere dei luoghi fisici della cultura dei miti delle leggende dei beni dei maestri antropologici delle tradizioni perché il turismo può essere un turismo sperenziale legato a turisti appunto che vogliono fare il trekking non vogliono andare a impastare il pane o vogliono andare a fare percorsi enogastronomici per cui abbiamo iniziato subito a fare degli incontri con gli amministratori interni abbiamo iniziato a capire cosa fosse disponibile all'interno delle 12 amministrazioni 12 comuni abbiamo iniziato a coinvolgere immediatamente anche le scuole perché faceva parte del bando questa cosa è stato realizzato un sito da uno degli assi diciamo dalle aziende che hanno vinto e questo sito sarà a regime il sito dove avranno proposti tutti i dati che sono stati censiti e raccolti ma quali dati allora abbiamo fatto prima proprio una griglia un censimento a priori dove abbiamo diviso tutti gli argomenti che sono emessi durante gli incontri partecipati e li abbiamo suddivisi per ciascun comune quindi ogni comune ha dato un voto da 0 a 3 dicendo questi dati non ne ho questi dati ce li ho già questi dati ce li ho già in formato digitale questi dati li possiamo costruire abbiamo delle pubblicazioni non abbiamo nulla o addirittura abbiamo già avuto dei fondi per digitalizzare la digital library o le biblioteche e quindi abbiamo anche dei formati addirittura già compliant con i formati aperti quindi abbiamo messo da 0 a 3 però di fatto ci siamo fermati a 2 perché non è che se non riuscite ad avere tutti i dati in maniera bella precisa e belli e pronti immaginate dei piccoli comuni che avevano la necessità di essere innanzitutto eruditi sull'argomento specifico uscire dall'ottica dell'adempimento uscire dall'ottica del bando uscire dall'ottica del vogliamo fare bella figura ma mettere tutto insieme è stato un grande lavoro di coordinamento molto complesso anche perché tutto questo inevitabilmente ha avuto la necessità di coinvolgere le scuole parliamo di 12 comuni parliamo di 10 scuole e stiamo parlando di 250 ragazzi stiamo parlando di 250 ragazzi stiamo parlando di una cinquantina di funzionari c'è la parte politica abbiamo tante chat telegram una con la parte politica abbiamo ancora una con la parte politica una con la parte operativa una con ogni singola scuola perché i ragazzi hanno avuto una formazione specifica su come costruire le data set sui luoghi della cultura sui luoghi della cultura ma non definendo noi che cosa volessi dire noi luoghi della cultura a quali dovessero essere le ontologie ma seguendo quello che è a volere il Nibact il Nibact il ministero ha rilasciato un portale dati appunto beniculturale.it con delle ontologie ne parlava prima che parlava prima Francescotti c'è anche sul portale dell'Agid questa ontologia che si chiama Cultural On che riguarda proprio i luoghi della cultura e gli eventi noi ci siamo focalizzati sugli eventi scusatemi sugli luoghi della cultura e soprattutto abbiamo la necessità di tradurre tutto questo processo in strumenti semplici da utilizzare per i ragazzi e per i funzionari per cui la lezione più semplice che potevamo far utilizzare era una tabella una tabella con dei campi che possono obbligatori alcuni che possono opzionare alcuni raccomandati e nel caso di vocabolari controllati dei menu a tendina che impedissero di fare errori quindi i ragazzi hanno compilato questa tabella facendo un'opera in classe di riflessione sul proprio territorio cioè quando abbiamo fatto il censimento di quello che volevano i portatori di interesse abbiamo confrontato col portare i dati aperti che ha la regione Puglia in particolare l'ente di promozione turistica cioè Puglia promozione ha dei grandi portali di promozione del territorio viaggiare in Puglia per quanto riguarda i luoghi e le cose da visitare e Puglia events per quanto riguarda gli eventi e abbiamo un po' visto quello che era stato già censito e già promosso per ogni singolo comune quindi per differenza abbiamo detto che nel comune di Massafra ci sono 5 luoghi da visitare la chiesa madre la zona archeologica la zona rupestre eccetera voi ragazzi secondo voi con i vostri insegnanti che cosa ci sarebbe anche da valorizzare nei vostri territori questo è l'esempio del caso di Massafra nel caso di Massafra sono emersi 120 luoghi da visitare rispetto ai 15 censiti passati nel termine dall'alto di un ente di un ente regionale questo perché ogni luogo ha una sua caratteristica ogni luogo può essere oggetto di attenzione per i turisti che sono diciamo attenti a un discorso di nicchia o possono essere di luoghi che riguardano anche il territorio in senso lato una piazza famosa che successe la cosa famosa un rito un luogo dove è avvenuto un particolare avvenimento e soprattutto tutti questi luoghi sono stati strutturati appunto secondo l'ontologia tra virgolette ontologia trasformata in una tabella e tutti e 12 i comuni hanno iniziato questo percorso con 10 scuole e i seduti superiori in alternanza a scuola lavoro quindi organizzando le visite guidate scusate le visite predeterminate insieme ai funzionali molti funzionali sono messi a disposizione hanno adottato questi ragazzi perché in pratica è un tutor diciamo del comune con i ragazzi e l'appetito è venuto via via diciamo è cresciuto via via che andava avanti il progetto è stato chiesto esplicitamente che questi dati venissero pubblicati su un portale open data per cui come offerta migliorativa abbiamo realizzato il portale open data dati.terradelegravine.eu e per chi maschia di queste cose è fatto su un docker messa a disposizione dal team di Piacentini quindi è compliant alle linee guida dell'agite sull'indicata pt sull'arvesting e in più io ho aggiunto il design della pubblica amministrazione dell'agib per cui in questo portale tutti gli effetti è conforme a tutte le linee guida dell'agib in questo momento presenti e i ragazzi hanno iniziato a pubblicare dei dati di autonomia sia in csv ma anche in excel perché è stato chiesto esplicitamente ai portatori di interesse che non avessero avuto la necessità di rendere interoperati i dati anche di aver informato diciamo low profile a punto di vista delle stelle dell'open data e poter essere diciamo visualizzato in maniera non interoperabile mentre il csv è il formato il primo formato che ci è venuto in mente per rendere interoperabili questi dati tra l'altro ripeto strutturati tutti nella stessa maniera ma dicevo l'appetito è venuto mangiando per cui sono state chieste anche delle cose che isolavano diciamo che andavano al di là di quello che era normale censimento di un'agricoltura e addirittura sono entrati sulla digital library tra le biblioteche comunali abbiamo chiesto l'aiuto di un esperto Nicola Barbuti che è un professore che si occupa di semantica e di antologia per strutturare questi dati invece secondo le antologie dell'inca e del pendeta della regione Puglia in modo tale che i ragazzi hanno continuato a fare un censimento diciamo prototipale dei libri di interesse più alto all'interno di queste biblioteche e quindi sono fatta anche un'opera di formazione su che cosa vuol dire un libro cosa vuol dire l'importanza del libro rispetto a un altro quelli che ovviamente rappresentassero il territorio fossero sempre indirizzati a una valorizzazione in ottica turistica e culturale per cui anche i digital library abbiamo pubblicato nel caso delle biblioteche comunali di Massavra di Drottalia e anche di Motola e quindi i ragazzi hanno imparato anche quest'altro aspetto della indicizzazione dei libri finalizzata a una digital library anche qui per dare una mano alla regione Puglia perché il progetto in qualche maniera fornisce già dei dati chiave in mano da poter essere importati sul portale regionale in questo momento la regione non ha delle politiche pendata nel fare queste operazioni come sono fatte in tre per cui noi cerchiamo dal basso di fornire uno standard che sia assolutamente scalabile mi sento di dire che questo standard della terra e delle gravine è assolutamente una cosa replicabile dappertutto e quindi in qualche maniera forniamo già un processo che possa essere in qualche maniera d'aiuto al portale regionale e alle politiche poi che si potrebbero andare a innestare vedo bene anche il discorso del Comun Web e del Consorzio come hanno stato fatto in Trentino perché da una parte si lavora dal basso a far nascere la necessità di pubblicare questi dati in formato strutturato si mette su i web services corazzati e si mette tutto su un portale federato regionale la vedo una naturale evoluzione speriamo che si vada si vada verso quella direzione quindi dicevo grazie a Nicola Barbuti abbiamo lavorato dal punto di vista della Digital Library e c'è da dire che ci siamo subito resi conto che il potenziale inespresso del territorio era molto alto perché tutti questi dati non sono hanno assolto la richiesta dei portatori di interesse di pubblicare dei singoli dati specifici ma sono andati anche oltre i ragazzi i ragazzi hanno imparato a conoscere anche meglio il proprio territorio hanno iniziato a riflettere sul proprio territorio cosa c'è di bello da valorizzare noi ci auguriamo che il passaggio successivo sia quello naturale che sta portando avanti un intero aggregato di 12 comuni cioè questi dati adesso sono stati dati scusate il gioco di parola ai portatori di interesse che sono esperti di definizione turistica di siti web di app quindi ci immaginiamo che da qui a breve nasceranno tanti servizi nati non dai comuni i comuni hanno fatto quello che dovevano fare cioè essere abilitatori di un processo di sviluppo di economia nel territorio economia sia dal punto di vista turistico dal punto di vista culturale ma anche l'economia economia fisica continuano gli eventi per sensibilizzare tutto il territorio sul rintelizzo di questi dati i comuni la metà dei comuni anzi più diciamo circa 8 su 12 hanno già non stato molto avanzato di pubblicazione dei dati alcuni inizieranno ad aprile proprio perché stiamo facendo delle turnazioni e ne approfittiamo per affinare sempre di più il prototipo e fare in modo che sia sempre più omogeneo tra tutti e 12 comuni che inevitabilmente immaginate ci sono diverse sensibilità politiche alcuni sono commissariati ci sono diverse scuole che impattano sul territorio alcune sono a distanza bisogna organizzare il trasferimento alcune del posto alcune non erano perfettamente allineate rispetto alla sensibilità dell'argomento un istituto industriale informatico probabilmente ha meno sensibilità sul lato culturale e turistico ma non è detto abbiamo avuto delle ottime risposte in maniera molto trasversale sui ragazzi degli istituti superiori la difficoltà ve lo dico già da subito è quella di trovare degli insegnanti che siano in grado di governare il processo noi questa operazione la stiamo facendo in tante altre parti d'Italia vi posso assicurare che la chiave di volta sono gli insegnanti e gli insegnanti vengono coinvolti in maniera corretta e soprattutto capiscono l'importanza di questa esperienza si ha una vera attuazione dell'alternanza scuola lavoro si ha una vera attuazione perché i ragazzi fanno un qualcosa di utile capiscono così sulla macchina amministrativa capiscono che vuol dire gli open data in alcuni casi abbiamo fatto vedere come si fanno le matte come si fanno le infografiche non è soltanto la compilazione di un data entry di un dataset ovviamente e in più in classe ne approfittano per agganciare al domenico articolare lo studio della storia del proprio territorio lo studio della geografia del proprio territorio costi il bando è un bando del Mibax cioè il Comune di Massafra ha fatto il capofila e distribuisce le risorse l'hanno vinto in 12 credo che a livello di costi non sia comunque limitato perché voi immaginate che tutta la parte del portale open data dell'affiancamento eccetera eccetera il bando specifico era di 20 mila euro quindi stiamo parlando di granchetti la difficoltà maggiore è l'organizzazione l'organizzazione è seguire anche le classi da remoto perché mica potevi essere presente ogni giorno in tutte le classi in tutte le scuole per l'alternata scuola lavoro quindi abbiamo fatto una formazione alle scuole abbiamo fatto un percorso nel tempo tramite dei gruppi di lavoro su Telegram vi dico subito che la piattaforma che abbiamo utilizzato per pubblicare i dati è una piattaforma di Google ecco per capirci perché molte scuole avevano già il Google Suite il Google Classroom quindi sapevano già di che cosa questo sviluppo dove si dire ma è chiaro che a regime bisogna trovare una formula diversa vediamo che cosa come si evolve ecco diciamo così in più gli ultimi giorni i comuni hanno chiesto il mondo dell'open data è un mondo che ci interessa vogliamo partire dall'approccio sebbene culturali ma vogliamo estendolo anche agli altri aspetti diciamo degli altri settori mi è stato chiesto di interfacciare quanto in maniera diciamo quanto più veloce possibile almeno un dataset per comune che fosse automaticamente esportabile ho avuto la fortuna di avere tutti e 12 comuni lo sportello unico di attività produttive il suo app con imprese in un giorno quindi con il mondo dell'unione camerale italiana e quindi ho interfacciato tutti i 12 dataset delle pratiche degli sportelli unici di attività produttive che sono appunto automatiche e supportate quindi trovate sia i dataset culturali addirittura anche i dataset sulle masserie di Crispiano famosa per il territorio delle 100 masserie sia i dataset che verranno popolati sul contenuto degli musei delle maioliche e delle ceramiche e si è nati appunto sui luoghi della cultura con il culturalon e ringrazio l'ICCD Chiara Veninatra la dottoressa Muro e anche Giorgio Alodi per avermi aiutato a strutturare il dataset sotto forma tabellare e anche i dati sui sportelli unici e attività produttive è stato precisissimo c'è una domanda che si arriva da Silvana in chat ti chiedeva a proposito dell'organizzazione accennato il fatto che l'avessi seguita da remoto è esplicito allora io sono un po' fissato con Telegram purtroppo sono uno di quelli che in Italia usa Telegram sempre al posto di Whatsapp non soltanto per le problematiche che avete letto in questi giorni di privacy sui propri dati ma perché Telegram mi permette di avere dei bot e ho creato molti bot sulla pubblica di gestione proprio per far toccare con mano che vuol dire di utilizzare i dati neanche a fare la posta sui musei sui dati culturali e quindi avendo sempre Telegram come mezzo di comunicazione sia broadcast con i canali che informatico con i bot uso Telegram anche per i gruppi di lavoro quindi ho creato 12 gruppi di lavoro uno per ogni classe i ragazzi si sono iscritti sul gruppo Telegram io non ho necessità di avere l'unico cellulare perché Telegram mi permette l'iscrizione a dei canali e a dei gruppi anche avendo soltanto il username e siccome parliamo di minorelli preferisco l'insegnante obbligatoriamente deve essere in classe e poi abbiamo altri gruppi di lavoro con la parte politica e con la parte diciamo del board organizzativo con Alucia Lazzari e Lazzaro e con il group del processo per cui c'è sempre un coordinamento molto veloce molto verticale con fedele e congedo che poi segue anche i ragazzi dal punto di vista diciamo umanistico passate in termini questa cosa è una cosa assolutamente scalabile vi posso già anticipare che lo stiamo facendo su Roma Capitale e l'abbiamo fatto su altri 12 comuni di un altro bando Mibac lo facciamo ogni volta che c'è un discorso di alternanza scuola-lavoro e soprattutto la necessità di lavorare a distanza i ragazzi mi scrivono quando io posso rispondo poi vado a vedere il dataset che combino e vi faccio degli esempi specifici avete sbagliato qui avete sbagliato lì punto ma è molto veloce Francesca in certo un attimo fa rilanciava quest'idea delle scuole che anche a mio avviso secondo me è centrale abbiamo un'esperienza che ormai è giunta al terzo o al quarto anno credo in Italia importante sul tema dell'open data e della trasparenza delle scuole che è a scuola di open coesione è una sorta di derivata del progetto open coesione che sapete è il portale della trasparenza delle politiche di coesione in Italia ed è davvero molto interessante sempre sul tema io sono mi è capitato di intervenire durante sessioni di racconto di condivisione dei report di modi interagio civici che ho fatti dai ragazzi attraverso il portale open coesione vi assicuro che è una delle esperienze italiane più interessanti in assoluto il tema di riuscire a catalizzare l'attenzione di ragazzi su questa roba su raccontarli che qui a qualche anno quando saranno più grandi avranno a che fare con le proprie esperienze professionali o più in generale diventeranno cittadini l'idea di dover pretendere dalle proprie amministrazioni i dati in formato aperto di poterli riutilizzare di avere consapevolezza civica rispetto all'importanza del tema a mio avviso è centrale io l'altra cosa aggiungi sì prego mi permetto di aggiungere questa cosa sulle scuole sono varie le fasi in cui tu coinvolge la scuola poi coinvolge sulla fase di riuso cioè creando una classe di futuri di future interfacce che prendono i dati per fare qualcosa come hanno fatto in Trentino come si fa spesso come si fa come a scuola di open coesione come un toraggio civico eccetera ma addirittura nella fase di produzione del dato nel senso che loro entrano nella pubblica amministrazione e si rendono conto di come funziona la macchina amministrativa è complesso trasformare una visione analogica del dato a una visione digitale di quello stesso dato e addirittura già pensarlo in ottica del riuso quindi strutturare in maniera tale che sia più facilmente riusabile sono due fasi diverse io credo che in tutte le fasi andrebbero coinvolto le scuole in Italia anche perché gli aiuta a sviluppare il senso della cittadinanza digitale mi permetto di dare solo un alert chi deve coinvolgere le scuole e chi deve portarli all'interno pubblico di amministrazione di avere le soft skills relazionali quindi io mi suggerisco di creare un gruppo di lavoro chi si occupa del dato dal punto di vista tecnico chi si occupa del rapporto con la pubblica amministrazione intesa come parte politica e chi fa l'engagement di questi ragazzi e li possa seguire però dandogli continuamente degli stimoli perché questi ragazzi quando entrano in pubblica amministrazione o fanno alternanza a scuola lavoro diciamocelo vengono messi a fare protocopie vengono abbandonati vengono lasciati a stessi stessi invece se c'è il lavoro che si coordina è quello che noi abbiamo fatto in pratica riusciamo a tenere tutto sotto controllo secondo tutti i punti di vista l'operatività ma anche la tensione all'obiettivo grazie mille abbiamo sforato di qualche minuto ma davvero non è un problema comunque siete più o meno rimasti tutti con noi io volevo ringraziare in particolare il riguardo al primo degli interventi di oggi riguardo gli interventi di Walter di Gabriele di Francesca volevo sottolineare giusto un paio di passaggi iniziali a beneficio dell'idea di condivisione con cui nascono questi seminari mi è piaciuto particolarmente il passaggio di Walter Nessler sull'idea di una governance basata sulla fiducia una cosa abbastanza preziosa molto poco frequente nella pubblica amministrazione l'idea che qualcuno al centro di un consorso chieda ad altri soggetti pubblici di fare qualcosa sulla base di un rapporto di fiducia è davvero molto interessante e molto prezioso e mi sembra utile come esperienza trovare una condivisione e raccontarle dagli particolarmente risalto particolarmente visibilità è interessante anche l'idea di associare una metodologia che è anche una tecnologia e viceversa quindi l'idea di un portale che in qualche maniera in automatico by design by design by this world by architettura informativa automaticamente acquisisce i dati da una serie di soggetti davvero è molto prezioso e ci faceva veramente molto piacere raccontare questa iniziativa infine ringrazio tutti i partecipanti che oggi ci hanno raggiunto e che hanno deciso di trascorrere con noi questo retto ci auguriamo sia stato prezioso torno a dirvi che tutti i materiali di oggi li trovate sulla stessa pagina di EventiPiado qui vi siete iscritti quindi probabilmente riesco a prendervi al volo copie il link vi volevo anche dire che di qui a breve pubblichiamo tutto grazie a tutti i relatori di oggi grazie per soft grazie a Stefania Mulos che ci ha dato una mano in regia e ci vediamo sempre su questi schermi su iniziative di questo tipo di qui a un po' di tempo che dobbiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti